Mr. Dio, alleluia, credi nel Vangelo, che è la potenza di Dio, di Gesù Cristo, che può cambiare il tuo cuore, e ti può illuminare, ti può salvare, ti può guarire, alleluia, il Signore può sanarti, perdonarti, limpiare il tuo coraggio, alleluia. Gesù Cristo vuole salvare, vuole scantare, Gesù Cristo vuole cambiare tuo cuore, alleluia, Gesù Cristo è il giovu del mondo, Gesù Cristo è il messiaia, Gesù Cristo è il reino dei rei, è arrepentito del peccato arrepentito di vostra iniquità di vostra desobedi e ribellione e venire arrepentito ante il e il os perdonare aleluia perché è grande in misericordia oh gloria a tuo nome è grande in la misericordia è il Dio in la misericordia è il Dio perdonare a los peccatori il Signore Jesucristo è il Dio perdonare al peccatore e alla peccadora Jesus wants to forgive you Jesus Christ he wants to change your life he wants to clean your soul repent and believe in him Jesus aleluia Jesus is the way the truth and the life aleluia listen to this world this is the Bible the gospel aleluia the only revelation of the true and living God the God the God of Israel the God of Abraham Isaac and Jacob aleluia the God of heaven Elohim Adonai aleluia he sent Jesus Christ Yahshua Hamashiach to save the world aleluia and he comes he comes into the world to give the true and the grace the mercy and the forgiveness aleluia Jesus Christ come from heaven he is the eternal word of God who become man and comes into this world to save the sinners aleluia only Jesus Christ is the way for the paradise aleluia 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 gloria su nombre oh